di definire la situazione per quel che riguarda la sede e della prossima stagione, quindi anche la querella Pallevangelisti è già proiettata, chiaramente alla definizione della rossa a disposizione di Bobankovac per dare l'assalto allo scudetto del volley maschile e sembrano molto molto vicini i rinnovi di contratto di Atanasievic e Giovi. Se per il primo, che è già legato per un'altra stagione alla società del patron Gino Sirci, era già stata avanzata una proposta per un rinnovo biennale e potrebbe arrivare la firma, comunque non sembra in dubbio la presenza di Atanasievic nella rossa della prossima stagione, per Giovi qualche dubbio c'era, il libero perugino infatti è in scadenza di contratto, le parti avevano preso tempo, però è arrivata una trattativa concreta, o meglio si è aperta la trattativa concreta perché da una parte c'è la Sir che propone il prolungamento di un anno, dall'altra Giovi che ne vorrebbe due, il punto di incontro potrebbe trovarsi e comunque sembra più vicina la permanenza di Giovi alla corte di Bobankovac. Per il resto ormai solo in fase di definizione la trattativa per portare Ivan Zaitsev e per riportare Ivan Zaitsev a Perugia, probabilmente servirà almeno ancora qualche giorno ma tutto sembra in via di definizione e poi l'altro colpo dovrebbe riguardare il centrale Marco Podraskanin che ha già salutato dopo otto anni la Lube Civitanova a Marche e che sembra uno dei promessi sposi della società della patrona Sirci anche se c'è la concorrenza di Trento, ma Perugia sembra arrivata prima sul centrale serbo che piace molto a Bobankovac, tra l'altro non sembrerebbe dover cambiare la batteria dei centrali o meglio, Birarelli dovrebbe comunque rimanere alla Sir, qualche interrogativo sulla posizione del capitano Simone Buti, ma con le quattro competizioni che attendono la formazione perugina non è escluso che alla fine possano restare in tre centrali di top livello, molto dipenderà poi anche dagli incastri tra italiani e stranieri per il regolamento che riguarda la Lega Volley Serie A e quindi la definizione anche e soprattutto dell'ingaggio di Ivan Zaitsev sarà importante anche in questo senso, come detto l'ufficialità però è attesa a breve, perlomeno potrebbe arrivare la prossima settimana.